amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi siamo giunti alla seconda parte della delle partite di qualificazione al mondiale se non avete visto il primo video andatelo a vedere lo trovate qui sotto nei video del canale dove ho selezionato alcune partite per la giornata di mercoledì non tutte perché ci sono squadre che ovviamente non conosco neanche minimamente quindi non ho nemmeno provato a pronosticare però ho selezionato alcune partite interessanti andate a vedere che magari potreste fare un unione tra queste e quelle del mercoledì potete creare una vostra schedina come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel mi piace alla fine del video se vi sarà piaciuto e adesso partiamo con la prima partita del giovedì germania islanda la germania nonostante abbia chiuso male il 2020 con una sconfitta per 6 a 0 contro la spagna incontra una nazionale che sembra aver perso la magia degli anni scorsi ricordiamoci che l'islanda aveva ben figurato sia agli europei che al mondiale già la qualificazione per una nazionale così era un qualcosa di stratosferico però mi ricordo che fece proprio bella figura soprattutto ai mondiali in questo momento l'islanda è arrivata ultima in un girone di nation's league è vero che c'erano la danimarca il belgio e l'inghilterra però anche nelle altre partite non ha fatto molto bene è stato un 2020 un po negativo per l'islanda la germania è una squadra che ha lo zoccolo duro del bayern monaco dentro di sé quindi la squadra campione del mondo con insomma con altre aggiunte magari del borussia e di altri e di altre squadre quindi parliamo di una signora nazionale io credo che qua la combo 1 più over 2 e mezzo data 1 e 40 sia un'ottima quota da giocare in questa partita passiamo alla seconda partita selezionata questo è un po particolare svezia georgia o l'ho selezionata perché molto probabilmente ci sarà ibraimovic il ritorno di ibra e quindi credo che sarà un innesto di fiducia per la nazionale svedese un pochino è segno che la svezia non è riuscita a trovare un sostituto a ibraimovic però sappiamo il carattere il carisma che ha questo giocatore che potrà apportare la sua esperienza oltre che al milan anche in nazionale incontra una georgia che voglio dire non è una nazionale proprio una squadra proprio fortissima e quindi la svezia per me potrà vincere questa partita l'uno è dato a 1 e 35 e quindi la inseriamo ungheria polonia secondo me questa sarà una bellissima partita l'ungheria è arrivata prima nel suo girone di nation's league con turchia russi e serbia vero che non sono queste squadre irreprensibili ma comunque l'ungheria è arrivata prima in questo girone ha vinto molto ma sempre ma sempre incontrato squadre di livello insomma di livello scarso quando ha incontrato squadre un pochino più forte tipo uruguay russia galles e croazia ha perso questo mi fa capire che la polonia potrebbe andare a vincere contro l'ungheria la quota è molto interessante proviamo rischiamo il 2 che è dato a 220 ottima ragazzi ragazzi questa è un'ottima quota potreste giocarla anche in singola se volete oppure abbinata con un'altra partita bulgaria svizzera la svizzera vediamo potrebbe potrebbe secondo me andare a vincere la quota del 2 offerta 1 e 50 se volete completare una schedina con una partita provate a inserire bulgaria bulgaria svizzera perché secondo me la svizzera i tre punti potrà andarli a fare chiudiamo con italia irlanda del nord non potevo lasciare fuori la nostra nazionale una nazionale che da quando è arrivato mancini ha ritrovato un pochino la sua identità incontra l'irlanda del nord che è un avversario non molto forte e qui direi che l'uno più over 1 e mezzo fissato a 1 e 40 lo andiamo a inserire in schedina ragazzi l'italia deve partire subito forte ha bisogno subito dei tre punti è una nazionale che sicuramente all'europeo arriverà tra le prime quattro perché è una nazionale molto forte guidata da un allenatore esperto e quindi deve continuare questa fase di crescita e l'irlanda del nord non può rappresentare assolutamente un ostacolo va bene ragazzi abbiamo finito qua con le partite io come sempre il consiglio che vi do è quello di scegliere tre o quattro partite potete fare una combinazione tra il video di ieri e il video di oggi e quindi poi giocare sempre secondo i vostri limiti di budget questa come dico sempre in ogni video è la prima regola ed è quella più importante non superate mai il vostro budget è un gioco e non è una perdita di denaro proprio così importante quindi mi raccomando sempre testa quando si gioca iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace io vi auguro buona fortuna e vi saluto ciao a tutti grazie 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 grazie